Si ha messo insieme cos'era l'arte e la scienza che dava dell'arte di Raffaello, perché ce l'avevamo stati anche, e come poteva essere visto, diciamo non soltanto sul piano stilistico, tante cose di estetica, la cosa è molto più profonda, perché è il nostro cervello, è il motore, è anche quello che guida tutti noi per la nostra vita, e quello importante è di dare le opportunità, le opportunità di accedere in minimo o più parte a quello che è l'evoluzione di se stessi, dal minimo ragazzo, lavoratore, futuro, per dare la possibilità di avere una visione e dare un risposto al perché della vita. Tutti noi dobbiamo capire che noi non siamo venuti qui nel mondo per fare quattrini, per fare primeggiare, eccetera, ma dobbiamo sempre avere la mente e quelle che sono le responsabilità di ognuno di contribuire. L'intelligenza di esserci è lo slogan della Fondazione che porta il mio nome, di esserci dentro ai problemi.